Buongiorno dal nostro telegiornale, assume contorni di un problema territoriale, quindi non solo circoscritto a Civitavecchia, la decisione della Regione di riaprire la discarica di Fosso del Crepacuore per consentire il conferimento di una parte dei rifiuti di Roma. Sulla vicenda si registrano infatti gli interventi dei sindaci di Allumiere Pasquini e di Tolfa Landi. L'esponente di Ripartiamo dai cittadini, Vittorio Petrelli, dal canto suo, paventa la possibilità che il rimpallo istituzionale di responsabilità porti a decidere di bruciare i rifiuti in una centrale in servizio. Tolfa è pronta ad ospitare un tavolo interistituzionale volto ad affrontare il problema rifiuti al fine di scongiurare l'arrivo dell'immondizia della capitale sul nostro territorio. La proposta arriva dal sindaco di Tolfa, Luigi Landi, che riprende l'appello dell'onorevole Battilocchio e le varie disponibilità emerse in questi giorni da quasi tutti i rappresentanti del territorio a discutere sul tema. Landi invita quindi tutti i sindaci e le amministrazioni locali, oltre agli eletti presso le istituzioni sovracomunali, per poter discutere con serenità ma con estrema determinazione un tema importante per il futuro del territorio. Anche il sindaco di Allumiere, Antonio Pasquini, sceglie la strada istituzionale. Annuncia infatti di aver avuto un colloquio preventivo con l'ingegnere Flaminia Tosini, dirigente della Regione Lazio, e di aver fissato un incontro per i prossimi giorni. Secondo il primo cittadino all'Umierasco, è ora di cambiare proprio per questo, con la dottoressa Tosini sarà approfondita la tematica e valutati i percorsi da intraprendere per tutelare il territorio. È fondamentale, secondo Pasquini, individuare strategie per ridurre le spese collegate alla gestione dei rifiuti, per rispettare l'ambiente e premiare i cittadini che differenziano in maniera corretta. Intanto sulla questione si registra un intervento fuori dal coro delle polemiche. È quello dell'esponente di Ripartiamo dai Cittadini, Vittorio Petrelli, il quale ripercorre tutto l'iter della vicenda dal dicembre 2015. Da quando la discarica è stata chiusa e sottolinea che se avesse continuato a funzionare solo per Civitavecchia, la sua durata stimata sarebbe stata di un anno. Adesso invece verrà colmata in pochi mesi. Secondo Petrelli, la ripresa del conferimento permetterà di regolarizzare le anomalie gestionali che hanno determinato l'interruzione del servizio e una volta che il sito verrà colmato, verrà messo in sicurezza e chiuso definitivamente, risolvendo anche i problemi per gli invasi precedenti. Per l'esponente di Ripartiamo dai Cittadini, poco importa chi sarà a conferire i rifiuti. Quello che importa è la mancanza di una programmazione seria e responsabile del ciclo dei rifiuti nella regione, in cui si sta assistendo al rimpallo di responsabilità tra sindaco di Roma e governatore. Stando così le cose, conclude Petrelli, quello che deve preoccuparci è che a causa di questo triatrino politico la possibilità che vengano assunte decisioni unilaterali e coercitive, come bruciare i rifiuti nella centrale, non appare così remota. In ultimo, l'esponente di Ripartiamo dai Cittadini giudica positivamente la decisione del sindaco di Tolfa, Landi, di proporre un tavolo interistituzionale. E ancora interventi sulla questione rifiuti di Roma a Civitavecchia. L'esponente del PD, Fabio Angeloni, parla di chiare responsabilità del sindaco Cozzolino. A sostegno delle sue argomentazioni ripropone un intervento del 4 luglio dello scorso anno, nel quale rimarcava come Palazzo della Pincio, non si fosse opposto nei 60 giorni previsti dalla legge all'individuazione di nuove aree idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, sollecitato dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, dove si segnalavano due cave abbandonate ai confini con Lumiere e Fosso di Crepacuore. Angeloni ricorda che, mentre i comuni di Fiumicino e Cerveteri manifestarono per iscritto la loro opposizione, i 5 Stelle di Civitavecchia lasciarono invece la porta aperta alla Raggi. La stagione estiva è alle porte, la Guardia Costiera quest'anno ha deciso di scendere in campo non solo con l'attività operativa a salvaguardia della vita umana in mare, ma anche con una forte attività di sensibilizzazione verso tutti coloro che vivranno a contatto con il mare. Fino al termine dell'estate, l'operazione Mare Sicuro 2018 vedrà impegnati oltre 3.000 uomini e donne del corpo, 300 mezzi navali e 15 mezzi aerei lungo tutti gli 8.000 km di coste e nei principali laghi italiani, per garantire una corretta, consapevole e serena fruizione del mare da parte dell'utenza e assicurare in ogni momento un pronto intervento in caso di emergenze. Vediamo lo spot realizzato con il testimonial Massimiliano Rosolino. Parliamo di sicurezza e soprattutto di sicurezza in mare, sulle nostre coste, per chi viaggia è arrivato il periodo estivo e chi non vuole gustarsi appunto questo periodo, che sia una settimana sia tutta la stagione estiva. Però ci sono alcune regole basilari per stare bene e rispettare soprattutto insomma chi ci sta più vicino. Perciò se andiamo per mare, reperibilità, essere intracciati, stare in buona salute sono delle regole semplici ma basilari per potersi divertire. E soprattutto se stiamo in difficoltà, contattare la Guardia Costiera. Accordo di collaborazione tra il circolo armirante di Fratelli d'Italia e il movimento politico del Paese che risorge alla base dell'intesa e il sostegno alla petizione del Parlamento italiano per una proposta di legge per l'introduzione della videosorveglianza in tutte le scuole e nelle strutture sociosanitarie. Sarà possibile sottoscrivere la petizione nella sede del circolo di Fratelli d'Italia in via Carducci 30 da lunedì alla venerdì dalle 18 alle 19 e 30. Domenica speciale, quella di ieri per Civitavecchia. Parte della città è stata invasa dai bersaglieri che festeggiavano il 182esimo anniversario della Costituzione del Corpo. La sezione Bersaglieri di Civitavecchia ha commemorato ieri il 182esimo anniversario della Costituzione del Corpo con una cerimonia che si è svolta in Viale Garibaldi davanti al busto del fondatore del Corpo dei Bersaglieri, il capitano nel reggimento guardie Alessandro Lamarmora. Alla cerimonia hanno partecipato le massime autorità civili con in testa il sindaco Cozzolino e militari della città. Nei vari interventi è stato sottolineato l'antico legame tra il Civitavecchia e il Corpo. Proprio nella nostra città infatti è stato presente per tantissimi anni alla caserma d'Avanzo alla Borgata Aurelia il primo reggimento bersaglieri. Un Corpo, quello dei Bersaglieri, che ha scritto straordinarie pagine della storia italiana e che viene sempre guardato con rispetto e simpatia. Nell'occasione ieri mattina in Viale Garibaldi erano presenti alcuni elementi della fanfara dei Bersaglieri in congedo Gennaretti, Lalli, Di Ladispoli, la banda musicale Ponchielli di Civitavecchia, le associazioni Dharma e il gruppo ciclistico Fiamme e Cremisi, costituito nell'ambito della sezione Bersaglieri il 23 gennaio 2018. Da Viale Garibaldi la cerimonia si è poi spostata nel vicino piazzale degli Eroi per la commemorazione al Monumento dei Caduti. Questi alcuni passaggi del duetto scherzo musicale con l'esecuzione di canzoni bersagliaresche e dinni patriottici legati alla gloriosa storia risorgimentale dei bersaglieri che sono stati eseguiti nella giornata di ieri. Torna nel giorno della solstizio d'estate la festa della musica. Nell'iniziativa promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è inserita anche la città di Civitavecchia grazie all'iniziativa note al tramonto alle terme taurine organizzata dalla Proloco Cittadina che ha aderito per il terzo anno consecutivo al progetto. Sarà l'occasione per approfondire la conoscenza dell'area archeologica delle terme di Traianeo in orario straordinario e vivere il privilegio di un suggestivo tramonto sulle note dei più celebi brani classici eseguiti dai maestri Elisa Pennica al violoncello e Corrado Stocchi al violino. L'appuntamento è per giovedì prossimo alle 18 per la visita guidata del sito archeologico e alle 19 per il concerto. Obbligatoria la prenotazione al numero 338 327 97 98 oppure proloco Civitavecchia chiocciolagmail.com TRC Mecenate informa i suoi affezionati delle spettatorie che nella mattinata di domani dalle 9.30 in poi per un intervento sulla linea elettrica effettuato da Enel il il suo segnale non sarà visibile nella giornata di domani quindi non andranno in onda le edizioni del telegiornale delle 12.30, delle 13.50 e delle 15.30. Saranno invece trasmessi normalmente i notiziari serali, quelli delle 20.15 e delle 23.15. Bene, era questa l'ultima notizia di questa edizione del nostro telegiornale ma restate con noi perché tra poco ci sono le notizie di Sportime 24. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata. Avifer realizza porte e cancelli, finestre in fissi in alluminio e PVC. Avifer di Vigliante, Elvio e Luca e in Vienenne a 9A in zona industriale. Bentrovate ad una nuova edizione di Sportime 24 che abbiamo parlando di palla a mano. giorni intensi in casa Flavioni. Mentre la società è a caccia di risorse economiche per poter iscriversi alla campionato di Serie 1, due giocatrici hanno lasciato la squadra. Il club è a lavoro anche per un clamoroso ritorno in squadra. Ma ascoltiamo il servizio. Si viene e si va. Le parole di Liga Bue sono le più esatte per quanto riguarda i tanti movimenti di questi giorni in casa Flavioni, in vista della prossima stagione. Innanzitutto la questione spinosa della categoria. La società della presidentessa Eleonora Gorla è a lavoro per ufficializzare la sua partecipazione alla Serie A1 2018-2019. Da come avviene ormai da qualche anno, il club è alle prese con cronici problemi economici a causa della mancanza di sponsor di rilievo. La 1 è ancora in dubbio, ma c'è un parziale ottimismo per poter giocare per la terza annata consecutiva nella massima divisione. Certamente per la Flavioni sarà una stagione molto più difficoltosa rispetto alla precedente a causa del crollo della copertura del palagrammatico che ha messo in ginocchio il club. Anche semplicemente fissare gli allenamenti al palasporto in Solera Tamagnini non sarà così sempre. Parlando di mercato, sono due gli addi già sicuri. Il primo è quello di Martina Crosta, centrale partita dal settore giovanile giallo-blu e nel giro della nazionale con cui ha già giocato diverse partite. La classe 93 andrà a giocare in Veneto con il Dossobuono, ambiziosa formazione di A1 che si è molto rinforzata. Ai saluti anche la portoricana Sheilairaldo che dopo un'ottima stagione a Civitavecchia ha deciso di tornare nella sua terra a Natia per motivi di lavoro. Rimarrà la Flavioni invece Chiara Bonamano, nonostante il forte corteggiamento del Brescia che voleva strapparla alla compagine di coach Patrizio Pacifico dopo i 127 gol messi a segno la scorsa stagione. Da monitorare la situazione del portiere Romina Ramazzotti, in dubbio anche perché è tornato ufficialmente in squadra, è l'estremo difensore Laura De Santis, storica figura della Flavioni che già da qualche mese si allenava con Maruzella e compagne. De Santis avrà il ruolo di Chioccia per andrà da Bulache, pronta a spiccare il volo dopo due stagioni di praticantato in Serie A. Ciò che è sicuro è che la Flavioni dovrà rivedere qualcosa nel rosa. Al momento, nel ruolo di centrale, in rosa c'è solamente Mara Bonamano. La società sta lavorando per un clamoroso rientro di Alexandra Ravas che ha saltato la scorsa stagione a causa della gravidanza che lo scorso aprile l'ha fatta diventare mamma. La mancina italo-rumena deve decidere se tornare subito a giocare e molto dipenderà anche dalla categoria in cui giocherà la Flavioni. Parliamo adesso di calcio. Due conferme ed un addio in casa Ladispoli a pochi giorni dalla conquista della Serie D. La società del presidente Umberto Paris ha deciso di confermare sulla panchina il tecnico Pietro Bosco, del suo vice Claudio Zannini, protagonisti della conquista della massima categoria dilettantistica. Ai saluti invece il centrocampista Vincenzo Lupo, anche se dovrebbe trattarsi solo di un arrivederci. Facciamo i migliori auguri a Vincenzo, spiega in una nota il Ladispoli. Speriamo di riaverlo in futuro nel nostro staff. Parliamo adesso di palla a nuoto. Ancora un successo per l'Under 20 della Centuncelle. I biancorossi si sono laureati per il terzo anno consecutivo campioni regionali. In finale il 7 di Stefano Olimpieri ha sconfitto l'Anguillara per 9-8 ai rigori, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 7-7. Decisivo l'apporto del portiere Mattia De Negri, che ha neutralizzato quattro dei cinque tentativi dei lacustri. Parliamo di sincro. Soddisfazioni triestine per il settore sincro della SNC. Protagoniste le giovani allieve di Judith Rechena alla manifestazione Kinder e più sport, svoltasi proprio in terra giuliana. Ottima la prestazione tra le esordienti B del doppio formato da Carlotta Martinelli e Greta Barbaro, arrivate 29 su 50 nel graduatoria. Bene anche Leonora Antonucci e Beatrice Roversi, tra le giovanissime entrate in finale, protagoniste di un prestigioso quinto posto. Finale anche per l'altro doppio, quello composto da Melissa Collacciani e Giulia Mari, ancora finale, stavolta in ottava posizione. ETRC Mecenate informa i suoi affezionati telespettatori che nella mattinata di domani, dalle ore 9.30 e poi, per un intervento sulla linea elettrica effettuato da Enel, il suo segnale non sarà visibile nella giornata di domani. Quindi non andranno in onda le edizioni del telegiornale delle 12.30, delle 13.50 e delle 15.30. Saranno invece trasmessi normalmente i notiziari serali, quello delle 20.15 e quello delle 23.15. Bene, era questa l'ultima notizia di Sportime24, siamo ai saluti, vi ricordo però che adesso ci saranno le informazioni delle meteo. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.